Passiamo qui per oggi un giorno specialissimo, c'è la Laura prima di tutto di Marilu e poi anche di mamma. Adesso siamo in attesa dell'arrivo di Sandro, che come al solito è in ritardo con la sua C2, non so se Sandro è finito. E poi però anche i genitori della Marilu e chi manca ancora? Matte! Ah, Matte! Matte però è giustificato perché arrivava in macchina qua in centro, ma fa la partita di Marilu. Siamo nell'aula notari o notari. E la Marilu è quella laggiù. Ah, eccola, eccola! Sto andando a cercare la sua posizione. Quindi non torna più indietro. In bocca al lupo, Marilu.